Io direi che siamo molto contenti di potervi finalmente riascoltare, perché questo è un grande inizio, una grande ripartenza. Abbiamo tutti passato un periodo terribile, ciò nonostante, come è stato raccontato sia dalle parole del Presidente che dal Maestro Pappano, loro non si sono mai fermati e non potevano fermarsi, come avrebbero potuto. Il Maestro ha ritrovato sostanzialmente un'orchestra che era pronta a partire, con qualche affinamento chiaramente dovuto dalle nuove norme, ma il tema vero, sono alcune parole che sono state dette qui oggi, che sono sicuramente la ripartenza, la creatività e la resilienza. Ripartenza perché effettivamente si riparte finalmente con il pubblico dal vivo, con l'orchestra dal vivo, e quindi c'è un rivedersi, risentire direttamente suoni non mediati dal mezzo informatico, cheppure è stato fondamentale e importantissimo in questo periodo. Quindi ripartenza vera, creatività. Ecco è stato detto, noi dobbiamo adattarci in questo momento a una società che vive con delle regole nuove, distanziamento, mascherine, fasce e aree di rispetto tra gli artisti, ciò non di meno dobbiamo andare avanti. E allora se non possiamo immaginare e procedere con il programma pensato prima, bisogna inventarsi qualcosa. Allora si toglie tutto quello che in questo momento non è possibile fare, non è possibile eseguire, si torna all'essenziale. Intanto si coglie l'essenziale, cosa è essenziale, a cosa non possiamo rinunciare. E poi si rifà un processo inverso, si comincia a riarricchire in maniera creativa, in maniera diversa. L'ha detto il maestro Pappano, forse se non ci fosse stato il Covid noi non avremmo inserito alcune cose, non ci saremmo inventate alcune soluzioni. E quindi la creatività è quello che ci permette di superare le difficoltà. E adesso noi abbiamo la possibilità di in qualche modo godere di una nuova stagione, fatta con criteri su basi un po' diverse, che io sono certa ci stupirà a tutti. Allora rubando le parole del maestro Pappano, caro pubblico, non vediamo l'ora di rivedervi e noi non vediamo l'ora di potervi finalmente riascoltare. Quindi davvero grazie.